il fenomeno del momento sarà anche Halloween però sarà forse anche il contesto geopolitico mettiamola così ci sono tante cose orrorifiche nella vita reale a questo punto vediamo andiamo a distrarci con una roba che ci fa torcere le budella e dopo entriamo anche in questo argomento perché Terrifier 3 è un film che fino a dieci giorni fa sfido chiunque che non sia avvezzo al genere horror ma anche una certa tipologia una certa nicchia di questo genere io non l'avevo praticamente mai sentito o meglio grazie ad Emanuele Rauco e grazie a Castiglione del Cinema e quindi durante l'intervista che abbiamo fatto insieme a Federico Zampaglione è uscita questa notizia che stava uscendo questo Terrifier 3 sono rimasto personalmente un pochino anche perplesso perché appunto mi aspettavo che si attendessero del un titolo magari un autore il nuovo film di Giorgio Romero complicato perché non è tra noi però appunto parlando di quindi che cos'è questa cosa che cos'è questo è una trilogia innanzitutto facciamocelo dire no da Emanuele Rauco e poi dopo entriamo un po' più nello specifico sì il è tu Flavia come definiresti in tre parole questo franchise chi è dove è come è collogato che cos'è allora è un horror del filone penso di poterlo definire slasher splatter che ha come protagonista un cattivo ricorrente tale art the clown che non è penny wise no che è art the clown the one and only the one and only c'è arrivato in soccorso Emanuele Rauco che ha mandato un biniamino proprio per me anche 94 secondi per sapere di cosa si tratta ma poi Flavia ci racconterà 1 2 3 i tre film velocemente con la sintesi che le si confà quanti ti fanno per te intanto Emanuele Rauco via Damien Leone è un curatore degli effetti speciali e aspirante regista che sta ancora cercando di trovare la sua strada a Hollywood quando ha l'idea della sua vita quella di un clown che evidentemente è un rimando al Pennywise di Stephen King però completamente senza colori e soprattutto che è l'essere più cattivo e violento del mondo lo mette in due cortometraggi semi amatoriali che poi riunisce in un'altra raccolta di cortometraggi un film antologico che si chiama All Hallows Eve che sarebbe appunto un film di Halloween su Halloween di tutto il film non frega niente a nessuno perché appunto lui ancora un aspirante regista sta ancora cercando di capire come si fa il regista però quell'invenzione lì è un'invenzione che comincia a seminare Zizzania nello spettatore quindi da lì costruisce un altro corto e poi da lì arriva Terrifier il primo film che è ancora semi amatoriale ma in cui riesce a mettere a fuoco l'essenza di Art il clown certo il male assoluto certo la violenza indiscriminata ma anche lo spirito ludico del clown Pennywise come ha detto qualcuno in confronto sembra Krusty il clown perlomeno per quello che lui ci fa vedere per quanto riguarda ha accolto esattamente vabbè Emanuele Emanuele però ha detto esattamente quello che andava detto rispetto al valore di questa saga a proposito di valore sto vedendo è in questo momento in programmazione all'Ariston di Sanremo vabbè per dire quanto è anche importante parliamo un attimo di questa saga di Terrifier devo dire che anch'io non ne avevo contezza nel senso che avevo sentito il nome ma non mi ero mai approcciata non so per quale motivo l'occasione ci è arrivata appunto da Castiglione del Cinema in particolare dalla protagonista del film di Federico Zampaglione che si intitola The Well e la protagonista che si chiama Lauren Lavera Lavera come si dirà in inglese è quella diciamo è la Scoring Queen la protagonista del Terrifier 2 e 3 ah ok quindi non è nel primo film no ispirata da questa ragazza che in effetti è stata credo sottutilizzata all'interno di The Well perché in Terrifier è una bomba è proprio la Scoring Queen perfetta ho detto approcciamoci a questa saga sta uscendo stava per uscire il 3 sapevo che sarebbe uscito il 3 ho detto vediamo di che si tratta il 2 lo hai inserito anche nei film di Halloween hai citato il 3 di Terrifier come tra l'altro appunto anche lì come partenope è stato anticipato mostrato in anteprima il 31 e poi basta è uscito la settimana dopo però la saga era già stata citata da te come una cosa da vedere ad Halloween si allora si tratta di un film appunto che parte con dei presupposti abbastanza amatoriali siamo nel 2016 esce questo Terrifier di Damian Leone partendo da questo cattivo particolarmente ben riuscito nel suo All Hallows Eve il protagonista viene interpretato in questi Terrifier da David Howard Thornton che è un caratterista e che è un altro genio assoluto perché praticamente Artil Clown non parla è un clown mimo perché è un clown vestito un po' come Pierrot quindi diciamo che è un clown vecchio stile di quelli che fanno solamente i gesti tra l'altro lo stesso attore ha fatto in una versione fan made anche diversi protagonisti diversi caratteristici personaggi della saga di Batman ha fatto anche Joker per esempio e ha partecipato anche alla serie molto molto bravo perché ovviamente deve fare un cattivo che è fondamentalmente un cattivo assoluto come diceva anche Emanuele è un cattivo sadico è un cattivo sadico nel senso che questo Artil Clown quello che fa principalmente è ammazzare la gente nei modi più abietti che vi possano venire in mente con una violenza e uno spargimento di sangue che la metà basta considerevole considerevole anche diciamo in alcuni tratti leggermente disturbante proprio per la quantità di violenza e questo sicuramente è una cosa da tenere da conto se avete difficoltà a vedere film del genere io non ce l'ho però insomma comunque non è una cosa da nulla anche se mi hai detto partiamo dal presupposto oh me fai finire una frase intera santo il signore prego grazie Terrifier dicevo parte con una dose di amatorialità niente male dopodiché essendo andato molto bene ha ricevuto molti più soldi per fare il secondo e molti molti di più per fare il terzo e c'è una escalation di precisione estetica che sicuramente notate noterete il primo sembra praticamente un videoclip uscito negli anni 80 ed era ed era il 2016 e invece l'ultimo è diciamo sicuramente fatto con una perizia maggiore quello che rimane è effettivamente questa mancanza di speranza perché Artil Clown è un cattivo con il quale non si può scendere a compromessi non ha un punto debole poi non ve lo dico qual è però diciamo non ha un punto debole evidente non ha sicuramente un punto debole emotivo cioè non è uno con cui si può scendere a patti non è uno a cui puoi dire guarda ma no ti prego risparmiami e funziona no non funziona perché lui è il male ha una componente soprannaturale cioè non è uno vestito da clown attenzione e questa è una cosa importante perché non si tratta di un banale serial killer vestito da clown è un'essenza in qualche modo e cosa succede in questi film non ve lo sto neanche a dire perché è fondamentalmente gente che muore male in vari modi con una complicazione della trama che diciamo cresce fin dopo film cioè il primo film praticamente non c'era la trama andando avanti invece c'è una scrittura maggiore cioè si vede che ci si sono impegnati un po' di più hanno detto vabbè adesso aspetta spieghiamogli anche qualcosa diamogli una forma un senso perché diciamo che tra una morte e l'altra di qualcosa dobbiamo parlare e lei è effettivamente e lei entra in gioco nel secondo film in Terrier Fire 2 che è del 2022 nei panni della protagonista Sienna Sean che è effettivamente una screen queen una screen queen guerriera una survivor una vittima che però sopravvive ed è colei che può combattere effettivamente il clown Artil Clown cioè ha un reale potere diciamo su di lui questo non vuol dire che lei ci risolve tutti i problemi anzi ed è questa secondo me la cosa interessante si è sempre diciamo sembra quasi che non ci sia mai speranza e voi direte vabbè ma che brutto però in un horror insomma almeno è un qualcosa di diverso non è una favola è un horror in questo Terrier Fire 3 che è al cinema in questi giorni troverete una componente diciamo ludica perché la cosa divertente di questo clown come diceva anche Emanuele Rauco è che è un clown quindi fa il clown fa le faccette va sui telecicli suona le trombette fa esattamente questo mentre fa tutto il resto e io in alcuni momenti devo dire non tanto nel 3 che è in effetti bello tosto ma negli altri mi sono fatta anche glasse risate in questo 3 c'è il Natale e questa è una cosa meravigliosa abbiamo superato Halloween che nei primi due era l'ambientazione diciamo temporale siamo usciti da Halloween e vediamo che altri clown campa fino a Natale diciamo e quindi lo troviamo quasi nei vesti non quasi nelle vesti di Santa Claus nelle vesti di Baum Natale e anche questo grande paradosso questo grande confronto fra la figura che incarna il bene per eccellenza e quella che incarna il male per eccellenza è interessante tra l'altro c'è anche un riferimento cristologico addirittura alla fine di questo 3 quindi proprio ci sono delle cose diciamo che c'è un affrontare un discorso legato alla possessione demoniaca che un po' ci dà una chiave di lettura ma non ce la dà completamente perché Damien Leone ci lascia così un po' spauriti sperduti come le vittime di Artil Clown non ci sono dei punti di riferimento fissi siamo lì in mezzo al nulla che cerchiamo di capire chi sopravviverà pochi ve lo dico pochissimi sopravvivono pochissimi cioè quasi nessuno bene bene devo anticipare Pippiolino47 su youtube sicuramente perché Artil Clown è stato interpretato da Mike Gianni nel primo film parzialmente in The Ninth Circle e in All I Love's Eve poi David Howard Thornton ha preso il personaggio anche accompagnando perché Giannelli e Thornton hanno lavorato a terifari uno contemporaneamente non è affatto facile fare un personaggio del genere perché appunto è un personaggio che si basa molto sull'estetica e sul fatto che sia obiettivamente aiutato dal costume dal trucco il fatto che Damien Leone sia un esperto di effetti speciali si nota si nota molto c'è un grande lavoro estetico su questi cattivi e su quello che fanno poi alle persone che non ve lo sto manco a dire ma comunque è una roba veramente di una grevità difficile da raggiungere e in effetti i piccoli è la gestualità del clown perché è chiaro che tu nel momento in cui diciamo empatizzi con la sofferenza delle persone che sono poi le vittime e poi ti volti e c'è lui che se la ride ma non è che se la ride cioè se la ride di gusto cioè se la ride come un clown che cerca di far ridere gli altri c'è un momento meraviglioso secondo me in questo Terrifier 3 in cui c'è un confronto diretto praticamente tra Artil Clown e Babbo Natale ora Babbo Natale diciamo in uno che lavora come Babbo Natale che gli dice noi abbiamo qualcosa in comune noi vogliamo far star bene le persone ovviamente senza sapere di chi si e quello lo guarda e sì lui sorride perché lui è un clown vuole far star bene le persone il concetto di bene è quello che diciamo varia però è molto divertente c'è anche del meta c'è del meta non lo so se c'è volutamente ma credo di sì perché tra l'altro la progressione anche produttiva dei tre film ha visto appunto uno scarto evidente tra il primo e il secondo film uno perché appunto il primo ha convinto moltissimo e poi si è sviluppato una saga addirittura a livello di personaggi e di storia hanno aggiunto la figura di Sienna Shaw appunto che è la comprimaria a questo punto che è una no è l'antagonista cioè l'antagonista che ha effettivamente dato un balzo a livello di sceneggiatura perché si porta un vissuto e una diciamo una narrazione del personaggio che fa che sposta il fuoco cioè non è più solo un facciamoci male nel peggiore dei modi ma c'è un senso c'è un un traino da un'altra parte il secondo film è stato innanzitutto il primo ha convinto tantissimo il pubblico il secondo film è stata la notizia del nuovo del sequel ha convinto moltissimo ma soprattutto ha entusiasmato tanto che per fare il sequel si è messo su un crowdfunding che ha però ha avuto un incremento di budget del 430% e quindi leone non Sergio ma Damien Damien ha visto esplodere soprattutto ha ricevuto talmente tanti denari che anche il suo orizzonte di creazione è diventato molto più largo il secondo film è uscito dopo la pandemia le riprese erano iniziate poco prima ottobre 2019 il film è uscito nel 22 ma questo terzo film con questo finale che ci posizioni lì sul piatto finale apertissimo che come ha anche già confermato Damien Leone porta diretti a un Terrifier 4 tra l'altro punto sempre riprendendo il Rai 1 come riferimento anzi con il TG1 come riferimento del mainstream probabilmente se ne parlerà molto presto nella ma guarda non penso proprio perché non c'è quasi nulla che puoi far vedere neanche come trailer la TG1 costume e società se ne parlerà non lo so intanto appunto tu hai detto che si parla di Christmas sì molto e c'era un momento musicale addirittura si potrebbe fare il musical di Terrifier sì secondo me sì c'è già una parte un po' di musicale in particolare sul 2 nel Terrifier 2 c'è un motivo in più per no ma no è un po' che cosa vi fa venire in mente il clown oltre al diciamo i giochini ci sono anche sempre quelle musichette un po' un po' circo ecco c'è tutto un momento molto ben pensato che sta tra la pubblicità e il jingle e il circo e lo show per bambini tutto musicale molto molto interessante forse ero passato da quelle parti ci dovrebbe anche essere questa canzoncina si chiama tipo clown's cafe una cosa del genere intanto quanto lo consigli da 1 a 10 il 3 nel senso dipende sempre tantissimo da quanto sopportate le scene tu hai avuto difficoltà no è che io avevo appena mangiato però diciamo escluso se lo vedete a digiuno è meglio a stomaco vuoto meglio queste sono le recensioni di qualità di letture metropolitane su radio elettrica è un terrifio Christmas